Sono molto contento, i ragazzi sono state brave e questo è un campus che non è tra i più difficili al di fuori delle prime due o tre squadre del campionato per cui molto brave a vincere bene i set che potevano vincere bene, a lottare punto a punto il set in cui loro ci hanno messo più in difficoltà anche un pochino grazie ai nostri errori, però nei due set che abbiamo vinto più facilmente mi è piaciuto proprio questo capire dell'importanza dello sbagliare poco che con suade di questo tipo in casa loro diventa molto importante per non dargli dei vantaggi come abbiamo fatto nel secondo set e molto bene anche il fatto che siamo riusciti così a cambiare un pochino, a dare un po' più spazio a chi meno gioca perché se dopo ci aspettiamo che nelle partite, nelle emergenze come succede con Chieri si possa sperare che questi giocatici siano pronti bisogna dargli spazio anche così, avere pazienza se sbagliano qualcosina in più è lo stesso più o meno che faremo anche mercoledì, una partita dove è importante vincere da tre punti non sarà facile perché abbiamo visto a Budapest i parziali sono stati netti però la partita è stata una partita abbastanza punto a punto loro recuperano la loro posta principale Bannister e quindi dobbiamo prepararci a una partita difficile però oggi riposiamo, domani riposiamo perché anche il riposo in questi momenti è molto importante grazie